ciao a tutti e ciao a tutte e benvenuti in un nuovo video allora siamo sulla postazione del mio tavolo e perdonatemi se ho sentito i rumori ma ho cercato di tirare su il più possibile la persiana in modo che ecco penso che ora potrebbe andare bene con il sottofondo dei pappagalli riusciremo ad iniziare questo video allora oggi andremo a preparare le trecce con la crema pasticcera allora la crema pasticcera ovviamente l'ho già preparata la pasta sfoglia vi serve un rotolo rettangolare poi io ci andrò ad aggiungere i zuccherini alla granella poi del cacao amaro e del cocco a scagliette e ovviamente voi potete tranquillamente utilizzare le gocce di cioccolato e io oggi ho deciso di farle così per cambiare poi ovviamente una rondellina allora ci vediamo dopo per i passaggi la cottura sono 180 gradi forno statico 20 25 minuti comunque appena vedete che sopra si è dorato e togliete dal forno allora ci vediamo dopo e iniziamo 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 Grazie.